Buonasera a tutti e grazie per essere presenti alla terza sera dell'ottava edizione del Credo Festival. Io per questioni proprio di tempo cercherò di essere il più breve e conciso possibile, perlomeno in questa fase introduttiva. Per chi non mi conosce o perché qui per la prima volta mi chiamo Franco Roppo e parlo al nome di questa associazione, ovvero l'associazione La Piazza che ha ideato e promosso questa iniziativa nel lontano 2011, ormai diciamo lontano perché vuol dire 8 anni non sono pochi. Questa iniziativa per il comune di Cleto, per la collettività di Cleto è stata un momento di orgoglio, in quanto Cleto era sì un bellissimo paese ma poco conosciuto e questa iniziativa è riuscita ad attrarre un sacco di giovani, persone di ogni età e da ogni parte d'Italia e quindi questa cosa ci riempie di gioia e ci fa sperare bene per il futuro. Tanto è vero che ieri sera c'erano ragazzi che venivano da Torino, ragazzi da Spagna, ragazzi da ogni parte d'Italia e questa è una cosa molto bella perché ripeto questi luoghi non erano abituati a queste presenze così giovani e fresche. Prima di adentrarmi nel dibattito è doveroso fare dei ringraziamenti, ringrazio tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa, io ci tengo a ricordare che questa iniziativa non percepisce soldi pubblici, non perché si disdegnano i soldi pubblici assolutamente, ma si disdegna il modo in cui si ottengono, però le file dietro le porte degli assessorati e via dicendo io perlomeno non ho tempo di presentarmi o chiamare X per farmi introdurli poi da Y per parlare con Z, poi aspetti e nessuno ti riceve, oppure ti dicono che ti danno questi soldi, poi i soldi non arrivano, intanto tu l'artista l'hai chiamato e alla fine devi pagare, quindi non evitare di rimetterci pure soldi di tasca e abbiamo deciso di spendere poco e contribuire alla crescita di questo sponsor, di questo paese e di questo festival attraverso la sponsorizzazione sia da parte dei privati, infatti ne ringrazio, spero di non dimenticarne qualcuno, sono grazie che Calabria, il bar La Grotta qui sopra, la pizzeria tipica, l'agriturismo alla gioiosa e poi faccio un appello e anzi un grazie a tutti i partner, a tutte le associazioni che hanno contribuito a far crescere questa iniziativa e ringrazio soprattutto tutti gli organi di stampa che hanno veicolato al meglio questa manifestazione, RTL, la RAI, Radio Azzurro, Repubblica, Corriere di Calabria e tanti altri. Noi non abbiamo pagato nessuno, quindi né comunicati, né cose, insomma tutto quello che vedete qua è stato fatto con l'arte di arrangiarsi, io mi sono cimentato nel scrivere comunicati, un altro si è cimentato nel sistemare la luce, un altro ci ha dato una mano con il pane, altri ci hanno regalato la farina, altri ancora ci hanno regalato delle melanzane, insomma tutta la comunità si è incentivata a contribuire alla riuscita di questo festival. Ringrazio la presenza qui del vice sindaco a dimostrazione che tutta la comunità di Cleto gioisce per questa iniziativa e mi avvio a entrare nei dettagli di questa altra edizione, l'altra edizione del Teto Festival ha cambiato location, non è più nella parte alta, non perché questa è più bella di quella, ma perché questa sembrerebbe più sicura, io sono imperfetto in quanto non posso dare un giudizio tecnico in quanto mi occupo di altro per lavoro, però a primo impatto i luoghi che l'anno scorso e gli altri anni sono stati le location del festival, ahimè quest'anno anche per tutte queste normative con i quali ci dobbiamo trovare a fronteggiare nell'organizzazione del festival ci impedivano di operare in serenità, in quanto alcuni alloggi di proprietà privata risulterebbero compromessi nella staticità. Io mi auguro e mi avvio a concludere su questo argomento che l'anno prossimo e gli anni futuri Cleto sia testimonianza della storia, di una tradizione delle famiglie di questo posto perché voglio dire, perdonatemi l'esempio, un magazzino a Milano cambia il settore merceologico, quindi da pizzeria può diventare un negozio di intimo e viceversa, questi luoghi magari restano sempre così, non cambiano, non cambiano soprattutto perché nella memoria delle persone le ricordano così come erano, ad esempio noi abbiamo aperto la sede all'interno del centro storico dove c'era un becco alimentare e quando qui a Cleto ci chiedono dove è la sede, c'era là dove c'era l'alimentare di Attilio, quindi è così, delle serrate si sono alzate dove altri magari le hanno passate. Io mi avvio alla discussione di questa sera, la speranza per questi luoghi che lottano sul ciglio dell'abbandono sono l'ospitalità e la cultura e questi elementi possono invertire e descrivere la storia dei luoghi e al contempo di dare una nuova vita, quindi queste sono le motivazioni principali alla base di questa edizione, dove da un lato c'è la volontà di non far cadere il silenzio sullo stato di decadimento e di abbandono che affligge innumerevoli edifici di proprietà privata, invece dall'altro vogliamo al contempo dialogare, ragionare sui cambiamenti della società attuale e in questa chiave abbiamo deciso questa sera di presentare questo libro che rappresenta forse una delle storie più belle della Calabria ed è una di quelle storie veramente fatte di uomini che hanno cambiato il corso dei paesi e anche un modo di intendere alcune problematiche. Il libro è Mimica Patosta, Mimma Lucano e il modello Riace che è scritto da Tiziana Parilla. Purtroppo... Purtroppo questa sera non è qui con noi il sindaco di Riace in quanto ha avuto delle situazioni improrogabili e ce ne dispiace tantissimo perché sarebbe stato bello ascoltare direttamente da lui quello che magari proveremo a dialogare noi successivamente. Di questo ce ne dispiace, doveva essere con noi anche Francesco Cirillo ed è che è a Riace insieme a lui in quanto c'è un'assemblea permanente a Riace di discussione in quanto il Ministero e la Prefettura giusto e la Prefettura non stanzia dei soldi che servono proprio per la sussistenza della vita del borgo e di questo ne parleremo meglio dopo. Io prima di passare la parola al Vice Sindaco per un breve saluto vi presento la rotrice del libro che è Tiziana Barilla e dopo ti aggoremo sul libro e presento anche un amico storico del festival del Francesco Saccomando per noi come Superman. Gli manca solo il bandetto perché dove c'è un problema lui vola, addirittura un anno ricordo questa storia siamo andati a prendere insieme salsicce e pane all'una e mezza di notte quindi proprio si presta in ogni modo per il credo festival e noi l'abbiamo disturbato e questa sera insieme a lui dialogheremo scusate sul modello Riace e su questa realtà di Cleto non ne parla, purtroppo non ne parla. Spero che magari Tiziana in futuro può fare pure un libro su Cleto e noi saremo qui contenti e felici di dare notizie e informazioni della Calabria, parla della Calabria. Allora passo la parola al Vice Sindaco per la Piazza. Grazie, infatti vi porto a tutti quanti i saluti dell'amministrazione, un saluto a tutti quanti voi presenti, un ringraziamento ancora all'associazione, un saluto all'associazione della Piazza per l'ospitalità che ha dato in queste sede per l'apertura, per il dialogo che abbiamo continuato ad avere, un saluto chiaramente ai nostri ospiti. Io alla fine di questi tre giorni di manifestazione dall'esterno mi sento di dire che sebbene ci siano stati dei problemi che hanno suscitato non polemiche ma qualche discussione, mi sento di dire che complessivamente il bilancio di questa ottava edizione del Cleto Festival sia stato assolutamente molto positivo. Mi piace sottolineare soltanto una cosa di questi ragazzi che si sono impegnati e che alle parole ragazzi, specialmente come Franco e qualcun altro, alle parole, questa è una cosa molto bella, riescono a dare anche una certa concretezza, a riprova ove ce ne fosse bisogno, lui e qualcun altro si sono impegnati, hanno proprietà, hanno proprietà all'interno del centro storico e si stanno adoperando anche per dare maggiore decoro a queste case e quindi questo significa anche contribuire in modo concreto allo sviluppo di un paese perché sarebbe inutile, sarebbe soltanto fare una polemica sterile e parlare dello sviluppo di un paese quando chi ne parla ha delle abitazioni all'interno di un centro storico e poi le lascia alla patola. Quindi questa è una cosa che mi piace assolutamente sottolineare. Mi dispiace tantissimo che questa sera non ci sia il sindaco di Riace, Mimmo Lucana, verso il quale il comune di Cleto quando si è trovato in difficoltà è stato travolto da qualche polemica, ha manifestato, sebbene anche con una email, però ha manifestato la solidarietà in un momento di difficoltà di difficoltà enorme. Ha un merito grandissimo, credo che Mimmo Lucano è quel sindaco, quella persona che rappresenta la parte migliore della Calabria, forse meglio di nessun altro, secondo me rappresenta la forza, quella caparbità di noi calabresi che abbiamo acquisito nel corso del tempo in un continuo confronto che noi abbiamo avuto con una natura sempre astra nel tentativo appunto di dominarla. Rappresenta questo, ha avuto anche il pregio enorme di portare sul tavolo nazionale un problema attualissimo, un problema molto importante e credo che la cosa più importante, la sottolineava in un modo molto bello franco prima, è che è riuscito a dare voce ad un impulso che noi calabresi abbiamo, cioè è riuscito a dare voce alla ospitalità, che è una delle cose che contraddistinguono noi calabresi ed è una delle cose belle che noi abbiamo ereditato dalla Grecia, ci viene dalla antica Grecia. Io sul tema di questa sera, sul modello lucano, dico una cosa, io sulle migrazioni ho una idea molto particolare, quando si parla di migrazione si deve sottolineare secondo me con una particolare pregnanza che è la storia, l'intera storia della umanità è iniziata con una migrazione, mi spiego meglio, centomila anni fa in una zona dell'Africa, mi pare la Rift Valley, i primi uomini hanno cominciato ad assumere una postura eretta, da lì è cominciato un viaggio, è cominciata la conquista del pianeta Terra da parte dell'uomo, quindi da lì è cominciato il viaggio della umanità, quindi l'umanità con cui si sono spostati in Egitto, nel Medio Oriente, alla fine hanno conquistato tutto il mondo, quindi il viaggio dell'uomo è cominciato con una migrazione e chi conosce la storia, chi ama la storia sa una cosa molto bella, che questi flussi migratori nel corso dei secoli, nel corso della nostra civiltà non si sono mai fermati, la storia dell'uomo è caratterizzata da continui flussi migratori, la civiltà della Magna Grecia è nata da una migrazione degli antichi greci, che poi ha dato pienezza, nel pieno del suo splendore, ha dato voce ad una delle più belle civiltà che ci siano state. Fatta questa premessa, io quando parliamo di migrazione e quando parliamo specialmente di flussi migratori, a me piace una cosa molto bella, che secondo me l'argomento è stato azzeccato, questo luogo aprite i porti è una cosa bellissima, azzeccata, perché quando noi parliamo dell'Africa, io credo che dovremmo guardare verso queste popolazioni che si spostano, dovremmo guardare forse con maggiore rispetto e vi dovremmo guardare, credo anche con una maggiore empatia, perché dovremmo qui il problema non è restare in Africa o spostarsi in Europa, il problema per queste persone che abbandonano l'Africa, che abbandonano il Sud America, che mettono in moto questi flussi migratori, è una scelta importante tra restare e quindi andare incontro ad una morte certa, abbandonare questi posti e andare incontro ad una morte probabile, quindi noi quando parliamo dei flussi migratori lo dovremmo fare con quella umanità che contraddistingue, con quella umanità e con quel senso di ospitalità che ha contraddistinto noi calabresi, dovremmo credo chiederci per quale motivo, il motivo per cui una mamma con un credito, per esempio un figlio, decide di attraversare il deserto e poi il canale di Sicilia, quindi andando incontro alla morte, lasciando quei luoghi che sono luoghi ai quali sicuramente è legato, perché ognuno di noi è legato ai propri luoghi e per quanto brutti possano essere però ha sempre un richiamo. Quindi noi come comunità che abbiamo vissuto, noi calabresi abbiamo vissuto tante volte il dramma della migrazione, forse dovremmo porci in questo momento dove c'è un rigurgito enorme di razzismo in un modo certamente più empatico nei confronti di questo fenomeno che noi diciamo per una vocazione, per vocazione, per cultura conosciamo molto bene. Ci sono, e con questo mi avvio alla conclusione, ci sono dei versi bellissimi di uno del nostro maggiore poeta, di Dante, quando nel paradiso Cacciaguida gli predice l'esilio e quindi Cacciaguida dice tu presto conoscerai come sa di sale lo panni altrui e come duro calle salire e scendere l'altrui scale. In questi versi che secondo me non hanno assolutamente tempo sono universali, è racchiusa tutta quella sofferenza, tutta quella umiliazione che quando lascia il proprio paese ecco patisce perché va incontro a gente che si fidano di lui e quindi noi in questo momento al cospetto di un flusso migratorio di 200, nel mondo di 220 milioni di persone, certamente non possiamo avere questo impeto di razzismo per poche migliaia di persone che vengono in Italia. In breve, noi nella nostra comunità abbiamo presentato un progetto al quale io ho lavorato tantissimo, il progetto SPRAR, proprio perché crediamo che il flusso migratorio possa portare degli aspetti positivi. Ora in questo momento è bloccato per una politica di un ministro che noi non condividiamo, però noi nella nostra comunità abbiamo già sperimentato la positività dei flussi migratori perché la nostra comunità ospita una ventina di famiglie di umeni e di bulgeri che sono arrivati qui nella nostra comunità una ventina di anni fa e una ventina di anni fa venivano guardati anche con diffidenza, con uno sospetto, però noi come comunità di pleto oggi dobbiamo ringraziare queste famiglie perché rappresentano la fonte di approvvigionamento del lavoro, sono le migliori maestranze delle attività e delle imprese che lavorano sul territorio e soprattutto hanno garantito un rimpiazzo demografico, cioè hanno garantito le generazioni future e hanno consentito al comune di pleto, a differenza di tanti altri comuni di poter mantenere aperte le scuole. Quindi noi di fronte a questo problema che è stato evidenziato benissimo come tema nel pleto festival ci siamo sempre posti in un modo molto positivo perché ce lo impone la nostra cultura e la nostra storia. Grazie Giuseppe, con la sua considerazione mi avvio a fare una domanda a Francesco Saccomanno che oltre ad essere un attivista ambientalista è anche una persona a fianco degli ultimi e di tutte quelle battaglie contro le ingiustizie, lui diciamo che sta sempre in mezzo alle vertenze locali, per il diritto al lavoro, per il diritto all'abitare e anche per il diritto veramente all'accoglienza. Però se si parla di questo libro non si può fare una considerazione che si sente dire molto in televisione ma forse è bene che qualcuno ce lo spiega realmente cos'è un viaggio della speranza? Domandone. Dunque, intanto buonasera a tutti, mi hanno chiamato perché dovevamo sostituire Francesco Cedillo e Mingo Lucano per una questione di peso, diciamo io farei il peso con questo ma politicamente mi trovo a metà tra i due, un uomo è delle istituzioni e Francesco Cedillo è un compagno di battaglia, di autonomia, di movimento, diciamo io sono uno che faccio politica attivamente. È una bella domanda questa, purtroppo si parte, i viaggi si fanno come diceva il vice sindaco, si va da una morte diciamo certa a una morte probabile però con la speranza di poter farcela come ci l'hanno fatta magari pochi, tanti altri e con la preoccupazione, il dolore, la sofferenza di poter morire come sono morti tantissime persone, come sono morti tantissime persone. È la stessa cosa sostanzialmente che hanno fatto i nostri avi, voglio dire i nostri nonni, io penso che non ci sia nulla di diverso, cioè si è partiti in una situazione di fame come c'era all'inizio del secolo o dopo la prima guerra mondiale o dopo la seconda guerra mondiale, si è partiti con la disperazione diciamo di poter scappare e non è vero che partono quelli che stanno bene come si dice oggi perché anche allora ci si indebitava per poter partire, si prendevano a credito anche il vestito per poter viaggiare, si pagava il viaggio dopo essere arrivati là e dopo aver iniziato a lavorare, quando qualcuno ti aveva garantito il viaggio, allora la differenza sostanziale non c'è, si partiva allora come si parte oggi, si parte per cambiare, per avere una prospettiva di vita, non è necessario partire per sfuggire dalla guerra, quelli sono i rifugiati, i richiedenti asilo, chi parte in quelle condizioni avrebbe diritto per le leggi internazionali, per la costituzione italiana di avere il diritto di asilo. Purtroppo quello che è successo negli anni con il nostro silenzio, il nostro di cittadini italiani, di persone che si fanno i fatti loro e che tanti che sono partiti sono morti, quindi il viaggio è un viaggio di morte purtroppo, è un viaggio che oggi pur viene su questi viaggi purtroppo e su queste morti si specula politicamente, questo è il dramma, è la differenza tra oggi e allora. Io sono nipote, figlio di emigranti, ho delle zie che abitano in Canada, che hanno viaggiato, che sono andati là, che hanno avuto la fortuna di poter lavorare, di trovare delle condizioni di lavoro. Non esisteva il diritto, il reato di immigrazione clandestina quando i nostri arrivavano negli Stati Uniti o in Canada, c'era bisogno di forze lavoro, i nostri facevano il lavoro che non si faceva più là, i lavori più umili, come succede adesso, i migranti fanno i lavori più umili, solo che in Italia ci siamo inventati e questo reato di emigrazione clandestina, che non è un reato imposto socialmente, è un reato che pesa economicamente e questo reato serve a poter tenere sotto ricatto le persone che vanno a raccogliere le arance e i mandarini che noi mangiamo sulla nostra tavola e che paghiamo 40-50 centesimi, 60 centesimi e purtroppo vanno a raccogliere i pomodori che noi paghiamo con queste benedette, novedette, doppie asche che fanno la grossa distribuzione, no? Per ottenere i prezzi al ripasso, ma il ripasso su cosa si fa? Si fa sulla vita e sul lavoro delle persone, per cui è un viaggio che probabilmente è un viaggio doloroso, è un viaggio a perdere, è un viaggio che è una sorta di terno all'otto per molte persone e devo dire che per i nostri non era più facile, ripeto, non c'era il reato di emigrazione di clandestinità quando si arrivava negli Stati Uniti, quando si arrivava in Canada e c'era la possibilità di poter lavorare, per cui oggi abbiamo la necessità, forse no, di chiederci ma perché avviene tutto questo? Non sarebbe più logico avere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro? Uno potrebbe venire qua, raccogliere le arance, raccogliere i pomodori, certo con un controllo maggiore da parte dello Stato, quindi con condizioni di lavoro e di vita dignitose e poi venire a fine campagna e poter tornare nella sua terra, una cosa normale diciamo, un diritto di permesso di soggiorno per diritti di lavoro, mi sembra una cosa così semplice. Buonasera, questo te l'ho chiesto, di fare questo piccolo appunto perché non si nota se manca meno locale, non possiamo fare vita di niente e andare avanti e quindi siccome non è la prima volta, non è che mi ha un problema con Cleto, negli ultimi mesi è stata una situazione abbastanza pesante, per cui volevo sottolineare questa cosa, cioè sottolineare l'assenza di Mimmo qui oggi perché l'assenza di Mimmo qui oggi è una presenza di Mimmo altrove, per essere assente qui era necessario che fosse presente altrove e negli ultimi settimane la presenza di Mimmo, ma in realtà negli ultimi anni, direi, mesi, la sua presenza nel borgo, in particolare che è la roccaforte del comune di Riace, è indispensabile, in questo momento c'è un'assemblea permanente, il telefono di Mimmo al quale ha cambiato soneria, ora c'è il cielo che è sempre più blu di Virovetà, in Mosquilla è praticamente una continuazione e quelle sono telefonate indubbiamente di gente che come alla Mecca va a Riace, è un continuo non solo di giornalisti ma anche di attivisti e questo è molto bello e anche molto utile per quella comunità, ma è anche un continuo squillare di telefonate che arrivano dalla prefettura, per esempio, dove c'è questo braccio di ferro costante per il blocco di fondi che è stato effettuato, che non è un'esclusione per il futuro, che è il blocco di fondi dovuti, è il blocco di soldi già spesi dal comune di Riace nel saldo 2017 e nell'anticipo 2018. E quindi, diciamo, forse ho contribuito mio malgrado anch'io a, come dire, personalizzare un concetto che in realtà è una cosa che è di tutti noi e lui me lo rimprovera sempre, quando gli ho detto facciamo questo libro mi ha detto ma lascia stare, non fare una cosa su di me o la faccia mia e lui ormai sta accettando il fatto di rappresentare per noi questa cosa, però questa riflessione ci tenevo a farla perché questa è una piazza che Franco mi ha anticipato, è una piazza con cui non c'è bisogno di parlare della BC, che già sa di che cosa stiamo parlando. E quindi questa diventa l'occasione per mettere i piedi per terra e renderci conto che in questo momento a Riace c'è Mimmo, che non è qui per essere lì, insieme a circa 100 operatori che non percepiscono lo stipendio da 10 mesi. Ed è lì insieme ai rifugiati che non ha i beneficiari di variotito, noi poi magari ne parliamo meglio, che non percepiscono i loro pocket money, i loro servizi da più di 8-10 mesi. E quindi questa diciamo è la situazione brutta, bruttissima che in questo momento ci piace, che noi viviamo con una boccata d'aria perché lo è rispetto alla politica nazionale, però quando prima si faceva riferimento al fatto che noi compriamo poco i pomodori perché questa cosa si fa sulla pelle, sulla vita, sui diritti del lavoro di altri. Giusto per porre l'accento su questo, che noi oggi stiamo vivendo una speranza, un ideale, un modello, un buon sogno, però ai noi in questo momento lo facciamo sulla pelle, sulla vita di 1700 abitanti, che poi sono quelli di Riace. Per cui io credo che non è per piageria o per passatevi il termine parabolagine, però credo che l'assenza di Mimo in questi eventi, se vogliamo anche un po' mondani, confermi il valore di quell'esperienza. Allora, entriamo nei dettagli un po' del libro, cercando di raccontare al meglio questa storia, questa bella realtà. Io ho letto che tutto ebbe inizio nel 1998, quando sulla spiaggia di Riace approdò un barcone pieno di curvi. Io chiedo a Feliziana che sei attenta conoscitrice di tutta la realtà di Riace, non solo del sindaco, che ruolo ha avuto in quell'anno la popolazione locale, anche in virtù del fatto che nel 1998 Mimo non era sindaco. Dunque, nel 1998 quello che arriva nella costa di Riace è un veliero, certo messo male, però era un veliero, tant'è che Mimo definisce, a me ma lo fa continuamente, il modello Riace come un qualcosa che ha inizio grazie a una botta di vento, perché in realtà è una botta di vento che porta quel veliero con centinaia di curvi. E per Mimo sì, non è un eroe, Mimo è uno dei tanti Riacesi che arriva sulla costa per andare a vedere che è successo, non era il primo sbarco in assoluto, né qui, né da queste parti, né tantomeno dalla parte della costa Ionica. Insieme a lui c'era Tonino Petrolo che ancora oggi è lì, indagato pure lui insieme a Mimo nella cooperativa che gestisce l'accoglienza, c'erano tanti altri Riacesi e quindi la comunità cosa ha fatto? La comunità è andata a portare cibo, andata a portare tutto quello che poteva portare lì, era la sera del primo luglio, quindi non era una situazione di freddo o emergenza di quel tipo. E Mimo era un semplice militante, un semplice attivista, tra l'altro era tornato da pochissimo in Calabria, perché lui era emigrato, si lavorava, trattorino e lavava il sud, faceva l'assistente di laboratorio chimico. Per cui lui è un attivista, un militante che insieme a un altro gruppo di attivisti e militanti ha guardato queste persone e le ha osservate, mentre questo paio di centinaia di persone venivano accompagnate in un luogo che era antistante alla chiesa del paese nella parte alta e lì sono stati ospitati da prima con quella che oggi avremmo chiamato accoglienza straordinaria. Ed era luglio, a settembre a Riace c'è una gran festa, c'è la festa del paese, quindi queste persone dopo già un mese pesavano, dovevano andare via da là. Mimmo, a differenza degli altri, quello che ha fatto, un po' a forma di rappresentanza, era quello di andare due volte al giorno presso questa comunità e attraverso uno dei kurdi, che fortunatamente parlava spagnolo, riuscire a interloquire con questa comunità. E uno di questi kurdi ha spiegato a Mimmo che loro volevano soltanto dei detti, delle case, acquistare, per cui Mimmo e il resto della comunità di Acese, insieme a questo nuovo pezzo di comunità, quello che hanno fatto nei primi tre anni, quindi non tre giorni, è stato fondamentalmente senza alcun contributo pubblico, senza alcuna forma di finanziamento strutturale, c'era niente in Italia nel 1998. C'era la normalità, c'era il fatto che se arrivano delle persone pure accoglie, che fino a, ci sembra un'epoca preistorica, ma in realtà era fino a vent'anni fa, era una cosa normale. Per cui quello che fanno è colletta un piccolissimo mutuo, se non sbaglio, di 5 mila Euro a banca etica, con il quale comprare il materiale e cominciare a ristrutturare pezzi di case del borgo. Case del borgo che sono state cedute dagli emigranti di Acesi, contattati a uno a uno telefonicamente e messe a disposizione di queste nuove persone che erano arrivate. Per cui luoghi, una signora prima ci facevano dare, ma parla di Clepo? In un certo senso sì, parla anche di Clepo, parla di tutto l'entroterra calabrese, ma parla dell'entroterra nell'Apennino, ma parla persino dell'entroterra nelle Alpi, parla di tutto, diciamo, un pezzo geografico in cui oggi lo scrivevamo. È stato scritto anche nel giustificare il tema del festival che è risvegli. Cioè, tutto un tratto di paese nostro, ma non solo, questa cosa si ripercuote anche in altri paesi europei, il cui destino è stato scritto da un sistema economico, quello del capitalismo avanzato, io direi ormai proprio più avanzato, ormai quasi in agonia, ahimè, perché è più cattivo, perché sta finendo, ahimè. E quindi il destino di Riace che sono riusciti a invertire, fondamentalmente, è anche quello di Cleto e il nostro, è quello di tutta una serie di territori che, il cui futuro è scritto se stiamo in quelle regole, ma se usciamo da quelle regole, come ha saputo fare Riace, allora il destino lo possiamo cominciare a scrivere noi, non lasciandolo scrivere alle multinazionali, di cui un po' faceva riferimento prima, anche se accomanno con la grande distribuzione. Ci faccio subito un'altra domanda, volevo sapere, insomma, tra le tante storie che poi si sono, ti intrecciano nella comunità di Riace, quale è stata quella che poi ha fatto sì che ti portassi a scrivere questo libro? Se ce n'è una in particolare, che conserva un ricordo diverso? La mia, la mia nel senso che all'inizio io ero poco convinta, almeno quanto Mimmo Lucano dovevo scrivere questo libro, che invece l'ha fortemente voluto la casa editrice, eravamo poco convinti, io ero poco convinta perché l'avete visto a Mimmo Lucano com'è, per cui ho detto se devo scrivere un libro di Mimmo Lucano divento un pazzo a inseguirli. In realtà poi ho capito che era la mia, la mia, la tua, insomma, era la mia, ho sentito molto mia questa storia, per me è rappresentato un percorso, che lo dico sempre, e mi piace dibattirlo, contro la rimozione. La nostra è una storia, anche quella che abbiamo lasciato scrivere ad altri e che invece è stata scritta da noi, già in passato, e per me ha costituito un libro appunto contro la rimozione, perché Mimmo per me è stato quasi un esperiente, mi ha permesso di viaggiare dentro uno spazio diciamo politico, oltre che geografico, e di andare a toccare tutta una serie di storie e personaggi della mia terra, della nostra terra, che qualcuno ha dimenticato, qualcun altro ha congelato, come se fosse una cosa da altri tempi che non ci appartiene più. E quando parlo di questo, parlo di, a questo punto lo devo dire subito, parlo di Mario Congiusta che ci ha lasciato ieri e che è un pezzo importante di storia nostra. E che mi auguro, mi sono convinta, che non farà la fine di Rocco Gatto, di Peppe Malarioti, di Natale Bianchi che è ancora in vita e in salute, grazie al cielo, ma che è un pezzo di storia nostra viva, vivissima, per cui alla fine raccontare Mimmo, raccontare Riace, per me è rappresentato raccontare me, la mia storia, finalmente senza dovermi giustificare, senza dovermi, come dire, quasi vergognare, senza dovermi dissociare dalla mia storia, perché quella è la mia storia che condivido e che anzi ho voluto raccontare proprio per portarla dovunque. Allora, io sono stato a Riace un paio di volte, ogni volta che sono stato in questo borgo ho avuto la possibilità veramente di vedere dei cambiamenti, dove c'erano serrante chiuse le ho trovate alzate, dove c'era un percorso ho trovato un percorso natura bellissimo, dove la spazzatura veniva raccontata in un modo, ho visto che c'era un circuito avviato della spazzatura racconta con gli asili, però tutto questo è avvenuto anche e soprattutto tramite un intreccio che è riuscito a rinnescare Mimmo Locano, ovvero tra la comunità locale e i migranti. Su questo aspetto, Francesco, qual è stato il ruolo delle istituzioni? Perché molto spesso le istituzioni, voglio dire, anziché allivellare i destini e l'essere cittadini, le persone mettono uno sul livello dell'altro. Da ciò però Riace è riuscito ad allineare l'essere persona, quindi dove non c'è uno straniero a Riace? Non c'è uno straniero a Riace? Questa è una bella domanda, perché Mimmo applica un concetto politico, quello della giustizia sociale, per lui tutte le persone sono uguali, che questo poi è anche alla base dei suoi guai, perché è normale, vi racconto un paradosso, all'inizio i migranti andavano a fare la carta di identità al comune di Riace e non avevano i soldi per pagarla, Mimmo non gliela faceva pagare, per evitare che succedesse che i residenti di Riace dicessero a loro la fai pagare, ma no, non l'ha fatta pagare nemmeno ai riacesi, la carta di identità, la tassa di 10 euro, quanto sarà? Adesso la finanza gli contesta che quei soldi lui li avrebbe dovuti ingassare, però lui sostanzialmente non ha agito in funzione del fatto di tutelare dal punto di vista legale quell'atto che stava facendo, lui ha agito con l'idea della giustizia sociale, se quelli non ce l'hanno e non la pagano, io non lo faccio pagare nemmeno ai riacesi, poi posso andare incontro anche a delle conseguenze legali, però io le rivendico queste conseguenze legali, perché le ho fatte non in nome di un mio interesse, di un interesse personale, ma le ho fatte in nome della giustizia sociale, è un pararosso questo, per dire che questo villaggio globale che è rappresentato da questo piccolissimo paese, come diceva Tiziana, potrebbero essere tutti i nostri borghi, Cleto ancora più di tantissimi altri, perché a Cleto ci sono i ragazzi, i giovani, non più ragazzi, qualche anno fa erano ragazzi, adesso sono giovani e un po' più adulti, che hanno competenze, che hanno voglia, che sono rimasti, che hanno deciso di lavorare qua, che fanno questo festival per rivitalizzare il borgo e quindi a Cleto diciamo, come in tanti altri paesi della parte interna della nostra regione, quella che a un dalle parti più ricche, le zone interne più povera, hanno il cosiddetto osso del meridione, lì diciamo, in questo osso, in questa parte di osso della regione, Mimmo Lucano è intervenuto facendo sostanzialmente, avendo un'idea politica dietro, tant'è che noi non difendiamo Mimmo Lucano perché ci è simpatico lui o perché siamo amici di Mimmo Lucano, come pure esplosiamo, siamo amici e compagni, ma noi difendiamo un modello politico, cioè Mimmo Lucano sostiene che si può fare politica diversamente e quindi lui, per esempio, in un periodo in cui l'accoglienza è considerata in alcune delle zone della Calabria, non vi scandalizzate, come una nuova forestale, dove si può sistemare il figlio, il nipote e il cugino, lui ha per esempio spaccato la sua famiglia perché non ha dato il valore né alla moglie né ai figli che sono dovuti partire per andare a lavorare fuori, per mantenere la sua integrità politica, diciamo, una cosa che gli ha creato dei problemi anche personali, no? E per creare questo villaggio globale sostanzialmente hanno utilizzato questi fondi che vengono dati, diciamo, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedi in casiva, quindi stiamo parlando di rifugiati e richiedi in casiva, stiamo parlando di persone che hanno diritto a rimanere in funzione di leggi internazionali della Costituzione italiana applicata, riconosciuta e andando avanti. Solo che a un certo punto questi progetti per i rifugiati e richiedenti asilo finiscono, dopo due o tre anni finiscono questi progetti. Allora, la diversità di Mimmo Lucano qual è? E qual è stata? Che con questi maledetti benedetti 35 euro che riceve dallo Stato, dall'Unione Europea attraverso lo Stato italiano, Mimmo fa un discorso complessivo, diciamo, e gli utilizza questi soldi fino alla fine, non per farci guadagnare qualcuno, ma per mettere i migranti e i riaccesi in condizioni di poter lavorare e stare, diciamo, e avere un sussidio economico nella loro realtà, producendo cose. Allora si è inventato i laboratori artigianali, che sono delle cose concrete, dove lavorano insieme un'area accese stanziale, diciamo, un'area accese adottata di nuova cittadinanza. E si è inventato, per esempio, un ureificio che dal prossimo anno sarà produttivo e che in quel territorio, diciamo, potrà produrre l'olio di riace finalmente. Ma, diciamo, il villaggio globale è un'idea politica che sta dietro all'idea di Mimmo e di quell'amministrazione di riace. L'idea politica è quella, sostanzialmente, che questi 35 euro che l'Unione Europea dà per la gestione dei rifugiati e di richiede di asilo sono anche troppi. E questo è il problema che è, questo è quello che ha creato problemi a Mimmo Lucano. Perché lui li utilizza tutti, in molte parti questi soldi fanno la fine che fanno. E questa cosa detta pubblicamente, ridetta, a Mimmo Lucano ha creato dei problemi. Lui dice che con 35 euro si fanno tantissime cose, più dell'accoglienza fatta in modo onorevole e dignitore. Quindi io, come opinione personale, dico benissimo, magari Salvini riducesse questi 35 euro, magari portandole anche a 25, per ogni rifugiato richiede di asilo. Però dall'altro lato si facessero dei progetti, perché non è che le persone scadono dopo tre anni che stanno, come dice Mimmo giustamente, le persone non hanno scadenza. Dopo tre anni che stanno nei progetti per rifugiati e richiede di asilo, tu devi creare le condizioni per poterle accompagnare ad avere una condizione di vita e di lavoro autonoma, per cui devi prevedere la possibilità che i comuni che fanno l'accoglienza possano fare anche degli investimenti. E quindi creare le condizioni di lavoro in quel territorio. Viace come cleto, qui è stato naturale, mi piace proprio ricordarlo questa cosa che ha detto il vice sindaco. Il borgo di Savuto, che io ricordavo chiuso a un certo punto, si è rivitalizzato, io con piacere ci andavo sentendo la gioia dei bambini che correvano, battevano, cadevano nel borgo, in questo piccolo paesino, e si è rivitalizzato autonomamente perché c'è stata la possibilità di lavoro in agricoltura qui. C'è stata la possibilità di poter lavorare con maestranze, anche nell'edilizia penso. Si sono create delle condizioni, quindi l'idea è, visto che le persone non scadono, Salvini fai quello che vuoi, riduce pure i soldi da dare e cerchiamo di tagliare l'industria dei migranti, dove tanti fanno soldi sulla pelle di questi nostri fratelli e tra l'altro molto spesso chi fa soldi in questo modo ha dei legami clientelari con personaggi politici, in questa regione succede anche questo, perché questa è la gravità, e per cui poi si condanna e si attacca all'unico modello che crea sostanzialmente il modello Riage non è che ha creato benessere per i migranti, il benessere principale l'ha creato per la comunità di Riage, se ci sono tante persone di Riage che oggi lavorano con quel modello vuol dire che qualcosa sarà servito. Senza tutto il servito è arrivato a partire tanti ragazzi di Riage, io ci sono stato ripeto di recente, ho visto che c'è una comunità viva e questo è molto bello, a differenza di tanti altri paesi che hanno fatto altre scelte, che ahimè i risultati poi sono stati sotto gli occhi di tutti, perché è giusto ricordarlo che questo modello Sprar Riage è partito tanti anni fa, quando magari in altri posti si pensava a fare sagre di zucca o qualcos'altro, loro pensavano a questo e questa legge sullo Sprar c'era già da tanti anni, quindi gli va dato senza dubbio un riconoscimento solo per la lungimiranza e il modo di interpretarla questa legge. Io ritorno di nuovo da te Tiziana, io ho avuto, ripeto, l'opportunità di visitare Riage, ho visto un bel momento che le strade hanno cambiato nome e hanno preso il nome di persone che hanno delle storie importanti, persone che hanno combattuto per un'idea fino a rischiare persino la vita, io ho visto che c'è persino la strada intitolata a partire in passato, mi voglio soffermare su questa figura importante perché anche noi come associazione della piazza nel nostro piccolo abbiamo deciso di intitolare la nostra sede, quindi con all'interno una biblioteca questa figura importante, io ti chiedo secondo te Tiziana cosa penserebbe se fosse ancora qui il pepino impastato dopo una visita a Riage? A questo non posso rispondere, è un nome importante quello di impastare, è uno dei nomi che abbiamo messo anche quello nell'Olimpo e abbiamo allontanato da noi, credo che Mimbo e pochi altri abbiano in realtà continuato in questi 60 anni praticamente a stare accanto al pepino impastato, lui è uno di quelli che quando gli chiami di che partito sei ti dice sono del partito di pepino impastato, che sembra una cosa poetica detta così, invece no, era di D.P., era di democrazia proletaria, non era un modo di dire, era lo stesso partito di pepino impastato e quindi io non ti so dire, ma non mi azzardo neanche a mettermi nei panni o a dirti, ti posso dire la valenza politica enorme di quei murales, perché il pepino è dovunque, è appena entri il paese prima di arrivare in piazza, è appena entri in piazza ed è davanti al palazzo di lavoro, e ovunque c'è un bene confiscato alla Marina che diventerà, dovrà, dovrebbe, diventerà sempre ben usato il condizionale, mi piace, è un ostello della gioventù che verrà intitolato al pepino impastato, quindi è una presenza enorme, quasi ostentata e la valenza è, vi dicevi giustamente, la toponomastica è sicuramente a un numero smodato di vittime di mafia, però, però, non sono vittime di mafia tra virgolette qualunque, non per fare serienze di B. Mimmo ha voluto rivendicare la sua appartenenza e storia politica e io apprezzo moltissimo questa cosa, questa è la mia opinione, ovviamente non correttamente più in passato, perché comunque è lì che è andato veramente in controvendenza, c'è Mimmo il sindaco di un comune piccolissimo che non ha manco mille elettori, che ha 500 elettori, lì se cambia l'idea di due famiglie è finita, diventare sindaco in una comunità così piccola, molto spesso, soprattutto a casa nostra, dalle nostre parti, si è tradotto in accondiscendenza, cioè si è tradotto in rincorsa del pensiero dominante, in un momento politico, storico in cui la tua parte politica va a te ritirata, ma va da un pezzo che va a te ritirare, ecco allora il peso forte di Pepino Impastato a Riace, la sua visibilità forte, per me rappresenta questo, questo senso di appartenenza forte, nessun cittadino riacese che abbia due o duecento anni e che sia nato lì o in uno dei più di venti paesi di origine dei cittadini riacesi di oggi, può dire di avere frainteso, può dire di non sapere cosa pensa il sindaco, può dire di non conoscere la visione che quel sindaco ha praticato in questi 14 anni, perché Mimmo è al suo terzo mandato ed è stato letto per tre volte, quindi per noi, dico tutti noi, il messaggio forte, chiaro, molto importante è quello, cioè deciso, avanti, a condiscendenza zero, lui non solo rivendica ma li lancia, quando veniva accusato con le cose che diceva prima Francesco, quello è uscito dopo che gli hanno consegnato l'avviso garantito e di di garanzia ha detto mi avvaldo della facoltà di parlare, non di non parlare, cioè io voglio avvalermi di questa facoltà, quindi il valore grande di questo luogo, insomma, nostro vicino di casa probabilmente è stato questo, che come Perpino è passato e settembre sono così vicino, ha sbandonato i quattro venti le sue idee politiche, anche e soprattutto quando era sconveniente e quindi io credo che la valenza importante sia questa, più che altro non è tanto una questione di coerenza, è proprio una questione secondo me di convinzione, cioè Mimmo ha sconfitto il grande nemico della, chiamiamo la sinistra, che è il cinismo, non è ipocrisia, non è la rincorsa, non è il moderatismo, soprattutto in Calabria poi di cinismo, cioè siamo maestri di cinismo, lui è riuscito a sconfiggere il cinismo, non l'ha mai intaccato neanche per un attimo, cioè Mimmo è uno che piange se gli viene da piangere, se gli viene da ridere, ti parla di me, qui l'ho passato in una convention dove ci sono centinaia di rompanni in crata, che parlano di come dividersi i soldi e i disprati e quindi io credo che la valenza forte sia quella, è riuscita a sconfiggere il cinismo. All'interno del libro c'è un passaggio molto bello che fra poco leggerò, io in questo passaggio del libro ci avevo veramente un manifesto, quindi per il rilancio delle aree eterne di questa regione e volevo successivamente una riflessione da Francesco Ciacomanno perché come dicevo prima Francesco è una di quelle persone che ha girato tutta la Calabria ed è andato in giro non per sagre e feste ma per problemi legati al territorio. Questa riflessione è al pagina 52 del libro e fa così. Noi dobbiamo costruire un programma che restituisca dignità al centro storico con azioni di recupero delle case e degli spazi abbandonati, non c'è bisogno di spendere soldi, non serve incrementare l'economia che è controllata dalle mafie, anzi l'azione di recupero interrompe quella filiera. Non dobbiamo consumare la superficie edificabile ma creare un'opportunità per la socializzazione, dobbiamo recuperare questi spazi, recuperare la scuola che è chiusa, la voglia di rimanere, dobbiamo ridare del protagonismo alla parte alta di Riace, al borgo, dobbiamo recuperare la dimensione che significa comunità, di cosa significa il bene comune. Quindi in questa frase ci sono tre elementi importanti che sono degnità, la voglia di restare e la tutela del bene comune. Francesco questa lettura può essere una base programmatica per una Calabria differente? certamente, anzi assolutamente, la Calabria differente deve partire da questo. La voglia di restare che Vito Tetti definisce un sacrificio per chi resta e quindi noi dobbiamo con attenzione riconsiderare questa nostra presenza sul territorio. La voglia di restare che chiama un po' tutti noi l'impegno, noi siamo abituati spesso a delegare, ma non c'è più possibilità di delegare, nel senso che o noi calabresi ci andiamo le maniche, lasciamo un po' le pantofole, lasciamo i social e ci mettiamo in gioco e ricostituiamo le nostre comunità, il senso di comunità che si è perso, le relazioni sociali che si sono perse. Nei nostri piccoli borghi ormai non ci si vede più, pur essendo qualche migliaio di persone, ognuno se ne sta per i fatti suoi, si fa i fatti suoi e non si incontra, non si vede, non si confronta, non parla, non ci sono più luoghi in cui ci si ascolta, ci si scambiano delle opinioni. E quindi il senso di restare però, restare come sono restati Franco, Carola, Ivan, loro che io ammiro moltissimo, restare cercando di cambiare la propria comunità, e non è detto che per cambiare la comunità bisogna stare nelle istituzioni, ma si può cambiare da un'associazione, da una forza politica, da un movimento, da un comitato, si può cambiare in tanti modi la propria comunità, c'è solo voglia di mettersi in gioco. Poi ci sono i beni comuni, che è un altro elemento su cui ricostruire un rapporto tra uomo e natura. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in questa terra Mario Alcano, che ci ha spesso raccontato come bisogna riscoprire questo rapporto tra l'uomo e la realtà in cui vive, tra l'uomo e la sua comunità. Ma d'altronde abbiamo avuto qualcuno che tanti secoli fa, il Bernardino Telesio, ha parlato della natura secondo i propri principi, quindi noi dobbiamo rimetterci in testa che non possiamo alterare i principi della natura. Noi dobbiamo metterci in testa, per esempio, che il 18 agosto non possiamo andare nelle gole del Raganello a fare un'escursione. E qui lo voglio ricordare le persone che sono morte, che sono morte secondo me non certo per loro responsabilità, ma sono morte per responsabilità di chi gestisce quel territorio. Dicono una cura del territorio, ma mi sembra normale che in un'area protetta, una delle aree più protette del parco, si possa accedere senza le guide, impunemente, senza che nessuno controlli l'accesso. E già, ma il parco, purtroppo, come tanti altri enti, è propenso a dare soldi per il Carnevale del Pollino, ma non è propenso a tutelare il territorio. Per cui cura dei beni comuni, e in questo Mimmo ci ha dato un esempio importantissimo, significa anche, per esempio, tutela delle risorse idriche del territorio. Mimmo con dei fondi che ha ricevuto dal governo nazionale che dava dei contributi per le persone che erano sul proprio territorio dei migranti, gli aspetti per rendersi autonomo con le risorse idriche. Per cui lui si stacca dalla Sorical alla propria autonomia da settembre, ottobre, alla propria autonomia totale per le risorse idriche e gestirà in proprio questo bene comune fondamentale, per cui tutti, tanti anni fa, abbiamo votato, la maggioranza degli italiani hanno votato, l'ho deciso che l'acqua dovrebbe essere gestita in modo pubblico. Quindi insieme c'è l'accoglienza, i beni comuni, restare, di mettersi in gioco come comunità, chiedere a tutti di partecipare, perché il laboratorio lo si fa tra un migrante e un residente, un viaggese d'adozione o un viaggese estanziale, tutelare i beni comuni, quindi avere questo rapporto con la natura, fare di quello che era una discarica un orto sociale, dove le famiglie di migranti, così come le famiglie di accesi, possono farsi il proprio orto, crescere gli animali da cortile, quindi avere le proprie uova e fare improprio recuperare un'economia rurale che c'era nei nostri paesi. È una cosa che si può fare ovunque, questo è il messaggio degli altri secondo me che deve passare, è una cosa che si può fare ovunque nei nostri porti se solo noi cittadini ci mettiamo in testa che è una cosa che non dobbiamo delegare agli altri, che è una cosa che dobbiamo chiedere, pretendere, volere, fare, determinarsi, mettersi in gioco e per cui se nel mio paese non si fa la raccolta differenziata io la pretendo, se nel mio paese non c'è la tutela delle risorse oidriche io la pretendo, se nel mio paese c'è un problema io me ne interesso, è semplicemente ritornare a qualcuno che in quel tempo, quando in passato faceva politica a sinistra, che poi è la mia parte, parlava anche al mondo cattolico, diceva io mi interesso, mi interessa, diciamo, al pubblico e per cui secondo me l'esempio di Riace è la rivalutazione della parola politica, perché Mimmo ripete sempre che lui difende un esperimento, un'esperienza e un qualcosa che rappresenti la possibilità di avere delle politiche alternative rispetto a quelle che conosciamo noi maggiormente. E per cui con Riace, quando parliamo di Riace, noi dobbiamo pensare che Riace è un esperimento di accoglienza, un esperimento umano, ma soprattutto un esperimento politico, con la P maiuscola. Io chiedo scusa se non apriamo successivamente un dibattito, ma purtroppo, ahimè, questi giorni stessi sono stati caratterizzati da un tempo incerto che ha slittato un po' di attività e quindi siamo un po' evitati. Sì, una cosa importantissima che Tiziana non vi dirà, ma che vi devo dire io, dovete prendere il libro di Tiziana. Perché? Perché? Allora, la prima cosa, è stato prodotto anche in spagnolo, ma questa donna qua, presenta questa compagna, si è fatta carico di organizzare la presenza di Riace di De Magistris e di Ada Colau, la sindaca di Barcellona, che sono stati qui d'estate, grazie a Tiziana. Si è fatta carico di scrivere questo libro e di scriverlo benissimo, lì è riassunta l'esperienza di Riace, tramite il suo libro voi vedete quello che è successo concretamente, è stato tradotto anche in spagnolo e si parla forse adesso di una possibile traduzione anche in francese, lo sbaglio, c'è un progetto. Per cui io devo dire veramente, come tanti di noi dobbiamo dire grazie a Tiziana per il lavoro che fa e anche del Preto Festival si è parlato sul suo giornale che è il Salto, lei è una giornalista, questa marchetta la dovevo, si può e mi chiamarlo. Una considerazione perché doverosa, quindi quando finisce il dibattito allestiremo un piccolo banchetto per l'acquisto del libro e così, quindi Tiziana io ci tenevo a farti un'ultima domanda, però necessita di per forza una considerazione che ha fatto prima Francesco, dove diceva che il sindaco faceva le carte d'identità perché magari il funzionario non c'era o perché il dipendente non aveva voglia di svolgere al meglio l'attività o perché era in ferie, quindi molto spesso questi sindaci di queste piccole realtà sono costretti a fare tante cose e quindi magari in questa burocrazia è facile perdersi, quindi mi allaccio soprattutto al discorso che il sindaco sta portando avanti attraverso uno sciopero della fame che è quello di rivendicare quello che gli spetta, perché la comunità di Viagge è riuscita concretamente a spendere al meglio questi soldi e a lasciare un segno concreto su tutto il territorio, però ahimè il sindaco magari non si è attenuto forse in maniera scrupolosa alla norma, alla burocrazia, invece altre cooperative come abbiamo visto a Roma che magari possono sfruttare commercialisti eccellenti e avvocati zelanti e furbi in grado di raggirare ogni norma, lì i soldi arrivavano e come si arrivavano, quindi se ci sono delle responsabilità magari della politica che scende veramente a livello del sindaco di Viagge, noi che possiamo fare e come possiamo aiutarlo in questa lotta? Tanto Mimmo si occupa delle carte di identità in generale perché Mimmo è il responsabile dell'ufficio Onagrafe e lì lo è perché è andato in pensione al precedente invece di spendere i soldi se ho preso questa responsabilità perché come tutti i comuni e soprattutto come i piccoli comuni non è che viaggina a quelle comodissime per cui può immaginare di fare chissà quale assunzione. Allora noi abbiamo due possibilità giuste, tutte e due, poi ognuno sceglie quella che gli è più vicina, in realtà però non sono uguali, diciamo come sono successive. Da una parte noi abbiamo sicuramente il sindaco che è quello di Riace che come la maggioranza dei sindaci sicuramente non ha rispettato impeccabilmente tutta la burocrazia impressionante che negli ultimi anni non a caso, la scelta e volontà precisa politica è aumentata a sproposito, soprattutto mi riferisco per chi ha esperienze negli Sprar nuovo regolamento Sprar. Nella mia città che è Reggio Calabria c'è un modo di dire che se ti entra la finanza qualche cosa te la trovo, che è un modo di dire che si utilizza per tutto, non solo per la finanza e cioè che quando il sistema burocratico si fa affitto evidentemente dietro c'è la volontà di modificare o peggio ancora come sta succedendo a Riace di punire il modello preesistente, quindi attraverso la punizione di quel modello preesistente il cambiamento, la messa in accusa e quindi ti crei tu la giustificazione per modificare quella cosa, per non dire che è una volontà politica. Per cui noi abbiamo una possibilità che è quella di dire ma con tutti i problemi che abbiamo in Calabria il nostro problema può mai essere Mimmo Lucano che ha fatto delle cose piccole e cioè con l'andrangheta che hai veramente il problema puoi avere paura di un sindaco che rilascia le carte di identità senza prendere il risultato. E qui ci ce l'abbiamo in questo momento, perché comunque noi abbiamo in questo momento la procura di Locri che non è la procura di Polzano che ci ha reso i problemi figuramente della procura di Polzano. Noi abbiamo la procura di Locri e un pezzo di guardia di finanza che sta dietro a Mimmo Lucano ragazzi, questo è il problema, è un problema per Mimmo Lucano ma è un problema anche per tutti gli altri. E poi c'è un livello successivo, perché questo non basta, questo è zero, ma non basta. La verità è un'altra, è tornato Franco, così ora glielo posso dire. La verità è questa, ma c'è un altro pezzetto di verità e c'è un altro pezzetto di verità è che quando il mondo intorno a te cambia e c'è quella famosa differenza che per fortuna sempre più persone oggi si chiamano, che è la differenza enorme che noi spesso convediamo fra la legalità formale e fra la giustizia sociale, che noi a volte diamo grazie anche a, poi ho piacere di confrontarmi dopo e ci fosse qualcuno nel Movimento 5 Stelle, ma grazie anche a un'operazione enorme che i 5 Stelle hanno fatto, noi abbiamo fatto un grande errore, ci abbiamo fatto coincidere la legalità formale con la giustizia sociale quando non è così, perché disobbedire a una regola ingiusta è giusto per tutto il punto di vista della giustizia sociale. Noi negli ultimi anni, in particolare negli ultimissimi anni abbiamo assistito a una serie di decreti, perché ovviamente le regole ingiuste non è che arrivano con la legge costituzionale, arrivano a molte di decreti come si dice nei palazzi del potere, noi abbiamo assistito ad una sfissa enorme di legge e decreti e decreti trasformati in legge allucinati. Il Jobs Act ha avuto delle conseguenze devastanti anche e soprattutto per i migranti, perché per un migrante che già è preso da una mano dal collo con una mano da qua con la possifida, il Jobs Act ha messo la mano dall'altra parte del collo e l'ha messa pure intorno a noi. E allora vedi, tu dici perché devi fare questa cosa, come se ne esce? Se ne esce disobbedendo alle regole, se ne esce stando accanto alla battaglia di Mimmo Lucano, non perché ha sbagliato meno degli altri o perché ha fatto degli errori più piccoli con gli altri, perché ha disobbedito e rivendica quella disobbedienza e quindi capire questa cosa e farlo anche noi forse ci fa uscire da questa situazione. Allora, io chiedo ancora scusa al pubblico che è rimasto qui a scoppare questa presentazione, però purtroppo i temi che abbiamo non ci consentono di iniziare un dibattito. Invito tutte le persone interessate ad acquistare il libro per meglio conoscere e apprendere questa storia. Ringrazio ancora Francesco Saccomanno, il vice sindaco Giuseppe Fili, c'è Tiziana Barillà e faccio un saluto al sindaco Lucano e il saluto più caroloso glielo mandiamo noi qua dal Cleto Festival e ci auguriamo che tutti i problemi che affliggono questa comunità si possano risolvere al più presto. Vi invito a restare, a contribuire alla riuscita di questa manifestazione, magari acquistandovi che ne so la maglietta o consumando un panino, dateci una mano affinché l'anno prossimo saremo di più e più forti e vigorosi di quest'anno. Grazie! Grazie!